Tra le colline moreniche che formano un anfiteatro naturale, i piedi del lago di Garda, cresce il crocus sativo. Sarà proprio lo zafferano purissimo di Pozzolengo, coltivato con metodo biologico dal 2001 dalla famiglia Grazioli, il protagonista in discurso della nuova puntata di Pianeta Verde in onda questa sera alle ore 21. Perché avete deciso di puntare sull'agricoltura biologica? Abbiamo deciso così perché comunque fin da quando coltivavano i nonni riusciva a crescere tutto utilizzando semplicemente gli elementi della natura, parlando anche dell'etame per dire, oppure semplicemente facendo delle rotazioni di coltivazione si riesce a zotare terreno senza portare niente di chimico. Anche la cura delle erbacce per dire, in questo campo si vede che ci sono poche erbe infestanti, perché utilizziamo il piro diserbo. È una tecnica che praticamente si tratta di mandare a punto di ebollizione la linfa delle erbe infestanti utilizzando fiamme libera. E quindi, come vedete, non è proprio totalmente diserbato, però ci favorisce la raccolta e poi l'erba continuerà a crescere, perché essendo un terreno molto fertile l'erba crescerà e poi in estate la teniamo falzata. Cerchiamo di utilizzare appunto metodi biologici che non sono proprio così impegnativi, dispendiosi come si può pensare. Dalla raccolta alla lavorazione, rigorosamente fatta a mano, passando per le operazioni culturali che bandiscono la chimica, scopriremo quali sono i benefici di questa spezia, usata sin dall'antichità per le sue proprietà nutritive e gastronomiche, una coloratissima puntata assolutamente da non perdere.